Profonda conoscenza dell'anatomia del corpo umano, ma anche capacità di saperlo ascoltare, due caratteristiche tipiche dell'osteopata. Olivier Strebel svolge l'attività di osteopata a Roma da circa 20 anni. Di cosa si occupa esattamente l'osteopatia? L'osteopatia si occupa del corpo umano, un paziente viene a trovarmi per un dolore, al di fuori del trauma ovviamente per un'altra ragnata in testa, ma la testa è sicuro, se no solitamente la causa del dolore non è mai lì dove il dolore si manifesta, così ho pazienti che vengono per mal di schiena, cerevicale, spalle, ginocchia, mal di pancia, disturbi intestinali, disturbi di ciclo, acufeni, vertigini, sono tutti sintomi su cui i pazienti mi vengono solitamente a trovare. Tutti i sintomi che hanno a che fare con l'apparato delle articolazioni? Giusto, perché è tutto un problema di equilibrio, di tensione articolare, muscolo articolare. Se una zona non lavora abbastanza o lavora poco, scarica il lavoro o un'altra zona che lavorando doppio si lamenta. In questo caso l'osteopatia va a risolvere il sintomo oppure all'origine del problema? Lo scopo è tramite una conoscenza approfondita dell'anatomia e un dito, una mano abituata a sentire, a cercare, a ascoltare il corpo, ricercare l'origine del dolore, la causa del dolore. L'obiettivo è anche quello di correggere poi quelli che sono i nostri comportamenti sbagliati, a volte è una postura errata, un movimento poco corretto. Lo scopo è di ritrovare un'anatomia globale, un movimento globale su tutto il corpo. Un benessere fisico ma anche mentale. Ovviamente, nessun dolore, la mente è tranquilla. Grazie.